Avete chiuso un 2021 in crescita, in cui avete raddoppiato la vostra dimensione, che anno è stato per voi? 2021 è stato un anno impegnativo, abbiamo chiuso a dicembre questa acquisizione importante, un'acquisizione dimensionalmente, come diceva, rilevantissima, che ci ha consentito di passare il billion di fatturato di un gruppo tedesco, Vateshide Powertrain Group, che era sostanzialmente il nostro competitor principale nel settore ag. E questo ci ha consentito comunque di fare un anno importante e di fatto di comunque mantenere la marginalità dei voti, dei buoni livelli. Questa acquisizione che opportunità apre a livello di clienti, geografie e canali? Sicuramente a livello geografico ci dà un forte respiro sul mercato americano, in cui Vateshide era molto forte e sicuramente completa il mercato europeo, dando, come dire, una maggiore rotondità al paese e all'Europa Core Europe. Noi chiudiamo l'anno con circa 3.500 persone, 70% circa sono in Core Europe e 15% negli Stati Uniti e 15% in Far East. Ci sarà spazio per altre operazioni anche più piccole o per il momento il focus è sull'integrazione di questa realtà? Sicuramente nel breve termine siamo concentrati sull'integrazione che sta procedendo in maniera organica e naturale. Sicuramente l'occhio sul mercato c'è sempre. Il 2022 non hanno complicato dal punto di vista macroeconomico, geopolitico? Vedete degli effetti sul vostro business? Commer Industries ha dichiarato un impatto relativamente limitato sulle vendite in Russia e negli altri due paesi coinvolti nelle situazioni speciali di questo momento. Abbiamo meno del 2% di fatturato, non abbiamo posizioni crediti rilevanti e non abbiamo impatti sulla supply chain. Grazie per la visione!